La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia torna a investire su strumenti di promozione economica che possano aumentare l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese delle sue province di riferimento, ossia l'Aquila e Teramo. Lo fa varando cinque distinti bandi. Anzitutto uno che stanzia 100.000 euro per facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. Il secondo bando invece guarda al favorire la partecipazione delle imprese a eventi fieristici di rilevanza internazionale e mette sul piatto 90.000 euro, fondi che diventeranno contributi per aiutare le imprese nella copertura delle spese sostenute per prendere parte alle fiere. Viene poi riproposto con un plafond di 100.000 euro a disposizione di una vasta platea di soggetti, tour operators e agenzie di viaggi in primis, ma non solo. Il bando per la concessione di contributi utili ad attrarre flussi turistici nelle strutture ricettive dei comuni dell'Aquilano e del Teramano. Il quarto bando della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia guarda alla concessione di voucher alle imprese in tema di formazione e lavoro. 175.000 euro a disposizione. Tra le misure incentivabili ci sono contratti di apprendistato, tirocini extracurriculari almeno semestrali, assunzioni a tempo determinato ugualmente di almeno sei mesi, assunzioni a tempo indeterminato. Infine l'ultimo bando camerale riguarda fondi pari a 100.000 euro destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Sicuramente anche per storicità la questione del bando sul lavoro, così come l'abbattimento ai tassi di interesse bancari, saranno i bandi che più di solito hanno appille per le aziende, insieme a quello per l'internazionalizzazione. Quindi sono tutti bandi molto mirati che sicuramente avranno un certo appeal e quindi invito tutte le aziende comunque a guardare il nostro sito, a studiare i bandi che abbiamo pensato per lo sviluppo del territorio e lo sviluppo delle aziende.